Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, giornata di domenica con una zona di bassa pressione che lentamente si muoverà verso le nostre regioni, insomma ancora tanta tanta instabilità, in particolar modo nel pomeriggio al centro-sud con sviluppo di scrosci di piogge temporali, ma anche al nord non mancherà qualche fenomeno, migliora qui lunedì. Andiamo nel dettaglio della previsione perché sarà una giornata di domenica con nubi più compatte al nord Italia, dei fenomeni inizialmente anche dei bei scrosci di pioggia al nord ovest, però attenzione perché l'instabilità sarà in accentuazione anche al centro-sud. L'ultima grafica ci conferma di fatto una giornata inaffidabile sulla nostra penisola con il rischio di piovaschi e anche dei brevi temporali, pioggia al mattino vi segnalo diffuse al nord ovest e la neve che proprio sulle alpi occidentali scenderà fin verso i mille metri di quota. Una giornata parecchio fresca sull'estremo nord ovest, dettagli maggiori sull'app gratuita di Trebi Meteo.